Sono diventato vegano praticamente da quasi due anni. È stato un processo lungo, nel senso che ci ho messo tre anni più o meno a ridurre notevolmente dalla carne rossa, i latticini. Sono diventato completamente vegano quando ho capito come avere un'alimentazione completa anche attraverso appunto questo stile di vita che non è solo alimentare ma è proprio molto più importante, molto più ampio che è diventata proprio una filosofia di vita. Tutto questo. Io sono vegana da quando ho cinque anni, quindi ne ho 39, ho conosciuto Mirko e gli ho fatto vedere un sacco di video su YouTube. Mi ha reso partecipe del suo mondo e di quello che pensava e dopo essendo sportivo molto attento all'alimentazione, vedendo che comunque diminuendo determinate cose la prestazione, sia l'attenzione al gioco che le parti fisiche miglioravano, di conseguenza ho scemato sempre di più per vedere fino a dove potevo arrivare e ho constatato, ma su me stesso in primis, che potevo avere uno stile di vita vegano e farlo sportivo allo stesso tempo. Molti mi chiedono se tornerai indietro. Sinceramente no, nel senso non ne ho bisogno, forse ho scoperto una varietà di alimentazione, cioè dell'alimentazione molto più varia adesso di quella che mangiavo prima e mi sento molto meglio adesso, quindi perché tornare indietro se mi sento meglio adesso? Di conseguenza no, non ho nessun tipo di ripensamento e neanche voglia sinceramente. Se prima arrivavo all'allenamento e ci mettevo un po' a svegliarmi perché magari avevo mangiato determinate cose e facevo fatica a digerire, attraverso questa alimentazione arrivo già attivo mentalmente, già attivo fisicamente e infatti che molti mi chiedono magari se inizia alle otto e mezza di mattina, molti sono strani e pensano che prendo delle sostanze strane perché sono sempre attivo, sono sempre allegro, sono sempre quello che scherza. Su tutti i paesi che ho girato da quando sono vegano, perché ovviamente guardo soprattutto questo aspetto qui, forse l'Inghilterra effettivamente è dove c'è più scelta, dove ti danno la possibilità di avere più scelta e quindi non giudicano, anzi sono molto più, forse aperti, sono molto più mentalmente aperti e anche a livello sportivo soprattutto c'era più attenzione per lo sportivo che aveva una determinata alimentazione.